Conservava una collezione di oltre 5.000 fotografie esplicite di minori e da un po' aveva iniziato a dare nell'occhio per i suoi comportamenti. Un 48enne residente in provincia è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Feltre per detenzione di materiale pedopornografico. Vari comandi dei carabinieri da tempo ricevevano segnalazioni nei confronti di un uomo che, in diversi comuni, manteneva comportamenti piuttosto strani. Niente di irrilevante a livello penale, non si parla di molestie. In ogni caso i militari hanno avviato una attività conoscitiva sulla persona acquisendo elementi che presumibilmente lo avvicinavano al mondo della pedopornografia. L'autorità giudiziaria di Venezia, competente in questi frangenti, ha dato il via libera alla perquisizione domiciliare durante la quale è emersa la collezione di fotografie custodite in vari apparati informatici. Il 48enne è stato portato alla casa circondariale di Baldenic, dove nel giro di 48 ore è arrivata la convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari.